Benissimo signori, intanto partiamo dalla giustificazione mia, perché chi è assente si deve giustificare chi è assente in presenza, nel senso che io ieri mattina ho scoperto di avere mia moglie positiva, aveva avuto un po' di sentimenti durante la notte, ho fatto il tampone ieri mattina e ho risultato positiva. Io ho fatto ieri mattina il tampone, sono ero, perlomeno spero di esserlo ancora, negativo, non ho sintomi, però sia ieri che oggi ho evitato di mescolarmi con persone o di incontrare persone, sono stato un po' per conto mio, ho continuato a lavorare da remoto e anche oggi ho evitato. Domattina farò di nuovo un tampone in prima mattinata, se a questo punto fosse, come spero, negativo, domani mi muovo, ma per oggi ho preferito così. E ovviamente mi dispiace molto, anche perché questa conferenza stampa importante è stata già rinviata per due occasioni, per i miei impegni oltretutto, e conseguentemente mi dispiace stamattina non essere lì con voi. Ma ci tengo comunque a dire alcune cose per poi ovviamente lasciare la parola a chi più è meglio di me, soprattutto meglio, oltre che più ha operato e lavorato in questo progetto denominato Isola, poi magari ci specificherete meglio anche cosa significa esattamente questa sigla e quant'altro. Questo progetto cosiddetto Isola è un progetto innovativo legato alla strategia nazionale sullo sviluppo sostenibile e all'agenda 2030. È di fatto un'indagine sulla valutazione della qualità ambientale su 33 comuni sopra i 10.000 abitanti della nostra regione, della regione Marche. Ed essendo 30 comuni sopra i 10.000 abitanti, ovviamente sono state prese in considerazione le città più importanti e quindi il campione comprende circa 950.000 abitanti, quindi una buona parte degli abitanti della regione Marche. Di fatto ARPAM ha stilato in questi mesi una serie di dati su degli indicatori che si era dato precedentemente come obiettivo. Ripeto, poi chi seguirà dirà con maggiore esattezza tutte queste situazioni, quello che voglio dire è che gli indicatori principali, quella sulla qualità dell'aria è legata ai cambiamenti climatici, quella legata alla raccolta dei rifiuti e quindi la qualità anche della differenziata e la raccolta dei rifiuti in questi 30 comuni, questi 33 comuni, l'inquilamento acustico ed elettromagnetico, la qualità delle acque in generale e anche delle acque di balneazioni per quel che riguarda i comuni costieri. Quindi tutta una serie di parametri, indicatori che ci danno di fatto la fotografia della situazione ambientale e quindi sulla sostenibilità ambientale in gran parte del territorio, soprattutto quelli urbanizzati della nostra regione. Diciamo che ARPAM ha disegnato la mappa della sostenibilità di tutti questi comuni attenzionati. È un progetto, è un'attività che non era stata mai fatta così sapientemente in precedenza e metti in evidenza oltretutto, così mi sembra di aver letto o di aver interpretato, poi adesso anche io ascolterò meglio dai relatori la situazione, mi pare che siano parametri anche tutto sommato accettabili, per non dire positivi, tendenzialmente nella nostra regione, frutto di un lavoro quindi durato negli anni dell'amministrazione pubblica e di chi deve operare sui controlli di quanto portano avanti le amministrazioni pubbliche. Io per questo lavoro molto complesso, molto articolato, che oggi viene presentato, voglio ringraziare l'attuale direttore dell'ARPAM, Mariotti, anche se da pochi mesi opera, ma è stato particolarmente utile in questo periodo, che è seguito alla sostituzione, tra virgolette, forzata, lo dico, forzata nel senso che è raggiunto i limiti di età dell'ex direttore Marchetti, che però Giancarlo sta continuando a seguire le attività di ARPAM come consulente, oltretutto in maniera gratuita, lo voglio quindi doppiamente ringraziare. Quindi ecco, è una struttura, quella di ARPAM Marche, che sta portando avanti, secondo me, molto bene le sue attività, è molto ben guidata, molto ben presente sui territori, ma devo dire che sta mettendo in campo una serie di attività che non sono quelle di obbligo, diciamo così, quelle dovute, dovute dalle mansioni che ARPAM deve comunque svolgere, e dico deve, ma anche quelle che vanno ad esplorare, ad approfondire, a capire meglio tutte le situazioni legate alla qualità ambientale e di vita, conseguentemente, del nostro territorio e dei nostri cittadini. Quindi ecco, voglio sinceramente ringraziare ARPAM per il lavoro che ha fatto in questi anni, in questi periodi, e da quando io sono assessore all'ambiente in questa regione, ho notato, sia dal direttore Marchetti, oggi consulente ARPAM, sia dall'attuale direttore Mariotti, e da altri, ovviamente, dirigenti e componenti di ARPAM Marche, un lavoro molto, molto, molto positivo. Quindi voglio anche ringraziarvi. Non voglio però far perdere ulteriore tempo, io ci tengo al pari di chi altri ascolta, sapere e capire meglio dai relatori come è stato portato avanti questo tipo di percorso e come, diciamo, viene oggi presentato e con quale anche prospettiva di proseguire di attività. Quindi rimango in ascolto e semmai ridico alcune cose dopo, se ci saranno, diciamo così, necessità, altrimenti sono in ascolto al pari di altri. Ringrazio, mi scuso di nuovo per non essere lì in presenza oggi, ma sono un po' scrupoloso sotto questo punto di vista e particolarmente attento. Bene, grazie assessore, innanzitutto grazie per le lodi che ha tessuto alla struttura e ai suoi vertici. Io mi riallaccio agli argomenti da lei sostenuti per insegnare, diciamo, nell'ambito del percorso che ARPAM sta facendo in questi ultimi anni, prima con il direttore Marchetti, continuata che con il sottoscritto, che è quello di non essere solo il censore ambientale, quello che fa i controlli, quello che fa i monitoraggi, quello che praticamente, diciamo, controlla e vigila soltanto, per diventare invece un soggetto più attivo nella vita sociale, civile e amministrativa, attraverso un'apertura nei confronti del territorio, dei vari stakeholder che vengono a contatto con l'ARPAM, quindi sia le amministrazioni pubbliche che i privati, soprattutto le imprese, gli imprenditori, perché, a mio parere, così come a parere di chi mi ha preceduto, ARPAM deve essere anche trasparente e convincente nelle sue valutazioni, nelle sue indicazioni, e quindi ecco che lo scorso anno si è proceduta la pubblicazione di questo buscolo che riguarda l'ambiente, un'analisi ambientale generalizzata della Regione Marche e che è molto interessante. ARPAM dispone di un sito molto interessante che invito chi ha curiosità a visitare, dove trovate tantissimi dati in materia ambientale e che sono importanti per avere il quadro della situazione dell'ambiente della Regione Marche. Il progetto ISOLA rientra in questo contesto. L'acronimo vuol dire Indicatori di Sostenibilità Locale per l'Ambiente, ecco da dove deriva Isola. È stato promosso da ARPAM insieme con ANCI, con ANCI Marche, infatti c'è stata la collaborazione dell'ANCI nel fornire alcuni dati importanti riportati nel progetto e con la sponsorizzazione e il supporto dell'assessorato all'ambiente della Regione Marche, ovviamente. rientra nel progetto più generale dell'agenda 2030 approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 2015, come diceva l'assessore. Ma rientra anche nelle progettualità che sono proprie del PNRR, del Piano di Ripresa e Resilienza, perché come sapete gran parte, una cospicua parte delle risorse che sono state stanziate per gli interventi del PNRR sono destinate proprio all'ambiente e quindi alla tutela ambientale. Qual è l'indagine condotta attraverso il lavoro dei tecnici che poi spiegheranno meglio come l'hanno sviluppata? Quella di andare a valutare gli indicatori, sono stati scelti 15 indicatori abbastanza importanti, anzi molto importanti nella vita quotidiana, quindi la qualità dell'aria, i cambiamenti climatici, la produzione di rifiuti e la differenziazione dei rifiuti, la gestione dei rifiuti, l'uso del suolo, del territorio, la mobilità, la tutela e la conservazione della risorsa acqua, che è una risorsa fondamentale per la vita, l'esposizione all'inquinamento acustico, agli inquinamenti elettromagnetici che pure suscitano tanto interesse nei cittadini, dunque lo studio delle acque di balneazione, sono questi 15 indicatori riferiti ai comuni più importanti, quelli che superano i 10.000 abitanti, che comunque raccolgono oltre il 62% circa della popolazione marchigiana, con lo scopo di non fare una graduatoria come fa il sole 24 ore ogni anno dei capoluoghi di provincia dove si vive meglio, dove la qualità della vita è migliore, ma lo scopo di fornire informazioni che possono interessare i cittadini, i quali possono anche fare delle scelte diciamo più mirate anche per semplici periodi turistici o anche per la localizzazione della propria vita. Quindi oggi lo smart working consente di poter scegliere di più dove vivere, se vivere in un ambiente più sano, magari dell'entroterra, un ambiente che ha caratteristiche diverse, che magari è più sulla costa. Di questi 33 comuni sono distribuiti equamente sulle province marchigiane e complessivamente danno un risultato, queste indagini hanno dato un risultato positivo, anche noi non abbiamo fatto un graduatorio ovviamente tra i più bravi e i meno bravi, però mi permetto brevissimamente di rubarvi un minuto per segnalare qualche eccellenza, non so faccio un esempio, la produzione dei rifiuti pro capite nelle marche è di circa 500 kg a persona anno, ma ci sono dei comuni che ne producono 360 e vanno lodati, Sant'Empia Mare è uno di questi, Fabriano un altro e ci sono comuni che ne producono anche 700, forse lì l'amministrazione dovrebbe fare un po' una valutazione per spiegarsi le ragioni del perché si producono tanti più rifiuti, perché questo poi ha un'incidenza anche nelle tasche dei cittadini, nei costi che con la tariffa sostengono annualmente i cittadini. Un altro esempio e poi la chiudo qui perché mi tocca direttamente in quanto cittadino maceratese, la tutela della risorsa acqua, acqua potabile e quindi la qualità dei servizi idrici, l'indagine ha indagato anche quali sono le perdite degli acquedotti, Macerata risulta in testa in questa gradatoria perché le perdite si limitano all'8% dell'acqua prelevata ed è un dato molto interessante, molto più basso della media nazionale, molto più basso della media regionale e nella stessa provincia di Macerata ci sono altre città che arrivano al 44% di dispersione di acqua. Ovviamente questo tipo di indagine consente anche agli stessi amministratori di indirizzare in un senso piuttosto che in un altro anche le possibilità di investimento perché è evidente che mentre il problema non si pone nelle città dove la dispersione è minima, si pone in maniera rilevante nelle città dove il 50% d'acqua va disperso, sia perché quel 50% d'acqua lo pagano gli stessi cittadini di quella città, sia perché comunque l'acqua non è una risorsa infinita e quindi non va dispersa. Quindi senza voler fare gradatorio, poi dopo nell'elaborato chi ha interesse si può vedere i vari dati riferiti ai singoli comuni, però diciamo l'indagine è importante perché offre agli amministratori e offre ai cittadini informazioni molto utili e rientra in questo filone di cui parlavo prima di apertura dell'Arcron verso i cittadini, verso il mondo esterno per fornire informazioni, per fornire supporto anche nelle scelte oltre che attività di monitoraggio e controllo. Chiudo qui, lascio la parola al dottor Fanelli che ha curato direttamente l'indagine, al quale potete anche rivolgere poi qualche domanda di natura tecnica perché lui sicuramente potrà fornire spiegazioni più puntuali di quelle che potrei dare io. Allora, buongiorno a tutti, non posso che associarmi ai ringraziamenti che sono stati fatti sinora, aggiungo un ringraziamento particolare ai miei colleghi che hanno lavorato insieme a me per giungere alla realizzazione di questo progetto e colgo anche l'occasione per realizzare le amministrazioni comunali che nei mesi indietro siamo andati a trovare i tecnici comunali che abbiamo bombardato di telefonate quando non avevamo ancora tutti i dati disponibili perché proprio la nostra volontà era di non lasciare indietro nessuno di questi 33 comuni perché era un progetto di questo tipo che è la prima volta che viene fatto e ci tenevamo a partire con il piede giusto. Io se riesco mi sposto sull'altro PC così vi faccio anche vedere qualche esempio di come è strutturato questo documento. Allora, diciamo che non mi soffermo sugli indicatori che sono stati già descritti, diciamo che abbiamo scelto indicatori rappresentativi e non di particolare gravosità in termini di popolamento in modo tale da non gravare troppo nemmeno sopra gli uffici comunali che avrebbero poi dovuto aiutarci. Quindi abbiamo scelto indicatori abbastanza semplici ma rappresentativi e nello stesso tempo che garantissero anche la possibilità di valutare trend magari negli anni successivi. Alcuni indicatori li abbiamo discussi e inquadrati anche a livello generale perché fornivano un quadro di insieme. Qui vediamo per esempio la parte che riguarda la qualità dell'aria. Abbiamo in questa piccola mappa che vedete ci sono ricentraline che utilizza l'ARPAM per rilievo della qualità dell'aria. Abbiamo valutato i valori del PM10, quindi polveri sottili e biossido ad azoto. Per i comuni nei quali non vi erano centraline posizionate abbiamo fatto riferimento ai dati calcolati secondo un modello numerico, quindi abbiamo preso i valori che venivano fuori da un modello che si chiama Invemar e che viene utilizzato da ARPAM. Abbiamo sostanzialmente rilevato una pressoché totale conformità rispetto ai limiti di legge sia nelle stazioni misurate, quindi attraverso determinazioni analitiche, sia quelle dove abbiamo un dato calcolato. Questo riguarda il biossido ad azoto. Abbiamo sempre una totale conformità sia per i dati nelle 24 ore sia per quanto riguarda le medie acque annuali. Avevamo detto qualità delle acque, per quanto riguarda le acque superficiali nella nostra regione abbiamo classificati 185 corpi idrici fluviali, intesi come tratti di aste fluviali che vengono caratterizzati attraverso una stazione dove vengono fatti i campionamenti. Brevissimamente i risultati abbiamo un 39% dello stato buono per quanto riguarda lo stato ecologico, un 87% per quanto riguarda lo stato chimico. Chiaramente soprattutto nel caso dello stato ecologico siamo ben lontani da quello che è previsto a livello europeo, che la comunità europea prevede il raggiungimento dello stato di buono su tutti i corpi idrici. Però il nostro dato è perfettamente in linea con quello nazionale e diciamo che è un po' un problema di tutte le nazioni della comunità europea, fatta eccezione forse per qualche paese del nord Europa come la Finlandia che è veramente vicina al raggiungimento dell'obiettivo. La situazione è molto migliore per quanto riguarda i corpi idrici lacustri, dove abbiamo un buono, classificazione di buono sul 67% per lo stato ecologico e stato chimico 100% dei casi. brevemente acque sotterranei, abbiamo 49 corpi idrici, vedete qui rappresentati, li monitoriamo attraverso 233 situazioni e il triennio di riferimento 2018-2020 ha dato una classificazione, ha permesso di classificare come buono il 78% dei corpi idrici sotterranei, anche in questo caso siamo ad un valore che è leggermente migliore di quello che abbiamo a livello nazionale. Acque marino costiere monitoriamo 11 corpi idrici, di cui 10 hanno lo stato buono e uno ha lo stato sufficiente o non buono per quanto riguarda lo stato chimico, ma anche in questo caso abbiamo un trend in netto miglioramento e pertanto ci auguriamo che nella prossima valutazione anche l'ultima stazione potrà conseguire la classificazione di buono. Nelle acque di balneazione abbiamo 254 stazioni, di cui 245 marine e 9 interne, anche in questo caso il risultato è molto buono perché nel 2021 è stato raggiunto un risultato mai raggiunto prima dove il 90% delle acque sono eccellenti e un 6% buono, quindi un 96% di acque tra buono ed eccellente, incluse anche le acque interne dei laghi dove viene effettuata la balneazione. In termini di conformità dei sistemi di depurazione abbiamo circa un 3% massimo di non conformità, un valore inferiore, anche in questo caso è un valore buono se consideriamo che vengono fatti un numero di controlli molto elevato sui depuratori d'acqua e reale fururbane. Clima e cambiamenti climatici, velocissimamente abbiamo preso i dati della protezione civile e dell'Assam, vediamo come si vede dal grafico sovrastante che anche nella regione Marche si evidenzia un aumento medioe della temperatura, questo nel 2020 abbiamo un valore di superiore a quello che è la media del trentennio 1981-2010. Lo scostamento è di 0,7, è uno scostamento che non è tra i più elevati a livello italiano, anzi il valore medio a livello italiano è ben più elevato. Questa è la parte in cui abbiamo descritto gli indicatori di inquadramento generale. Poi abbiamo redatto una serie di schede per ogni comune, quindi per ognuno dei 33 comuni abbiamo redatto queste schede. Come si diceva prima abbiamo riportato attraverso delle infografiche i risultati, quindi i valori di questi indicatori, ma non abbiamo assegnato un peso per poi fare una sommatoria e redigere una classifica finale. Non era questo lo scopo e oltretutto da un punto di vista scientifico paragonare certe situazioni sarebbe anche difficile paragonarle con un numero secco finale. Per cui però abbiamo riportato tutte le informazioni e poi alla fine di ogni scheda, come potete vedere adesso vediamo quella del comune di Ancona, giusto perché è il primo in ordine, ma anche perché sia il capoluogo di regione. Questa è la scheda tipo che abbiamo utilizzato e al termine di questa scheda, nella parte finale, abbiamo messo, lo vedete in verde, quelli che sono gli aspetti nel quale il comune eccelle, soprattutto nel quale il comune può essere considerato virtuoso. Io adesso non vi faccio chiaramente scorrere tutte le slide di ogni singolo comune, vi do solo qualche curiosità dei rifiuti, ha iniziato a parlare il direttore, abbiamo valutato la produzione pro capita dei rifiuti e la percentuale raccolta differenziata. Tra i 33 comuni abbiamo valori che variano come chilogrammi abitanti anno che vanno dai 360 ai 674, quindi la media sui 33 comuni è di 517, siamo in linea, anzi leggermente migliore, il valore con quello a livello italiano che è di 520. Le eccellenze in questo caso spettano al comune di Sant'Empiri a Mare, poi in ordine Fabriano, Recanati, San Severino Marche e Morrovalle. Per quanto riguarda invece la raccolta differenziata, abbiamo un valore che nella nostra regione va molto bene in termini, se paragonata alle medie che si hanno a livello italiano, abbiamo dei valori che oscillano nei 33 comuni da un 59% a un 84% con un valore medio del 73%. A livello italiano considerate che il valore medio è un valore del 61%. In questo caso le eccellenze spettano a Castelfidardo, poi Chiaravalle, Mondolfo, Valle Foglia e comune di Recanati. Vi do anche altri dati che possono essere interessanti, un altro è quello del consumo suolo che l'abbiamo calcolato da immagini satellitari come percentuale di suolo antropizzato sul totale del territorio comunale. Abbiamo dei valori che vanno dal 4% al 37%, un valore medio del 16%. Consideriamo che è un valore buono se li paragoniamo, allora se consideriamo il fatto che in regione non abbiamo grandi metropoli e considerando altresì il fatto che in genere il consumo di suolo maggiore si osserva a livello italiano in comuni inferiori a 20.000 abitanti, che hanno i primi 50 in Italia, se non vado errato, hanno tutti i valori superiori a un 50%. Quindi diciamo che il 16% che abbiamo noi come valore medio è un valore di tutto rispetto. In questo caso il valore più basso di consumo di suolo lo presenta San Severino Marche, poi Urbino, Fabriano, Recanati e Comune di Tolentino. Passiamo velocemente a un altro paio di aspetti, poi chiudiamo. Consumo di acqua, parliamo di litri abitanti al giorno, abbiamo dei valori che vanno da 140 a 224. Il valore medio nei 33 comuni calcolato è di 193, in questo caso abbiamo fatto una media pesata, contro dei valori che abbiamo, allora Arera ha considerato 197 nello stesso anno che è il 2020 nell'Italia centrale e 204 a livello nazionale. Quindi in questi 33 comuni comunque si hanno valori migliori. Comune più virtuoso Morrovalle con 140, poi Sant'Eppidiamare, Chiaravalle, Corridonia, San Severino Marche e via via tutti gli altri. Perdita di rete idriche, come dice qui, l'eccellenza spetta alla provincia di Macerata che è un valore molto basso, calcolato che è inferiore al 9%, il valore più alto che troviamo è 54% con un valore medio di 31,9%. Anche in questo caso se facciamo un paragone abbiamo valori dell'Arera del centro Italia per 48,5% e a livello italiano il valore è del 41% nel 2020. Quindi anche in questo caso si hanno valori che sono molto buoni. Passiamo poi alla mobilità sostenibile intesa come autovetture e piste ciclabili. Abbiamo calcolato il numero di autovetture presenti su ogni comune per ogni 1000 abitanti. La forchetta in questo caso è più stretta, va da 614 a 790, con un valore medio di 675, siamo appena superiori al valore medio italiano che dice 663, in questo caso là il comune, che è messo meglio il comune di Ancona, seguono poi Chiaravalle, Falconara, Civitanova e Morovalle. L'ultimo che riguarda le piste ciclabili, l'ultimo dato che vi volevo dare. Abbiamo calcolato, abbiamo espresso questo indicatore come metri per abitante. La media dei comuni per i quali siamo riusciti a ottenere questo risultato è di 0,5 metri per abitante. Non abbiamo particolari valori di riferimento se non che quello, ad esempio, di uno dei primi comuni a livello italiano che è Ferrara che ha 1,14. Considerate che abbiamo noi comuni come Chiaravalle che ha un valore di 1,4, Porto Recanati 1,3, poi abbiamo intorno all'1 Mondolfo, Grotta Mare, Iesi, Pesaro, Fano, eccetera. Quindi sono valori che poi tra l'altro sono destinati ad aumentare perché so che ci sono diversi progetti per realizzazione di ciclovie varie nelle Marche. In questo caso il paragone a livello italiano non è male, chiaramente siamo un po' indietro come tutta l'Italia a livello dei paesi in Nord Europa dove Helsinki, nonostante a dispetto del clima, ha un valore superiore a 2 metri per abitante, però diciamo che anche i valori che abbiamo nei nostri comuni cominciano ad essere valori di rilievo. Io non vi annoio ulteriormente con tutte le altre informazioni, poi siamo qua, se c'è qualche curiosità cerchiamo di rispondere. Chiude ovviamente il dottor Marchetti che è stato l'animatore anche di queste iniziative e soprattutto di questo nuovo processo di apertura dell'ARPAM alla cittadinanza, alle imprese e agli enti locali. Grazie, solo brevemente per dare le motivazioni di questo rapporto che un po' avevamo concordato all'inizio dell'anno scorso con l'assessore Acusti, cioè quello appunto come ha ricordato anche l'assessore di dare una visione un po' più aperta dell'agenzia anche in linea con quelli che sono i dettati normativi in quanto l'ARPAM è l'organo ufficiale che dovrebbe, deve diffondere i dati ambientali. Oltre questo lavoro appunto di cui si è parlato prima abbiamo fatto questo progetto, è la prima volta che si fa in Italia, nessun'altra regione l'ha fatto prima, sopra i 10.000 abitanti. Noi partiamo dal fatto che l'ambiente è un bene collettivo e il bene collettivo va tutelato con azioni individuali, quindi il cittadino e in questi 33 comuni ci sono circa un milione di abitanti, il cittadino deve sapere qual è la qualità ambientale dove vive e quindi può tentare di migliorarla, conoscere quindi affine anche di aumentare la tutela e come dire aumentare la qualità, migliorare la qualità. Questo è il primo punto, il primo diciamo motivazione. La seconda motivazione è che nel programma di mandato della giunta regionale si fa riferimento alla filiera cultura, ambiente e turismo. In questa regione insomma dove ovviamente la cultura, il turismo insomma sono in qualche modo l'asse portante della regione dal punto di vista insomma anche di vocazione eccetera, è importante associare a queste, a queste diciamo, come posso dire, visione, mission insomma della regione per certi aspetti la componente ambientale, quindi la conoscenza dello stato dell'ambiente come momento diciamo di maggiore apprezzamento da parte anche della popolazione fuori regione di visita insomma turistica, maggiore apprezzamento di questa regione. Ecco queste sono le due motivazioni principali che hanno portato a questo lavoro, ripeto il primo che si fa in Italia. Grazie anche alla, come dire, rapporti quotidiani che i miei colleghi hanno avuto con i comuni per cui la testardaggia è loro che ha consentito di poter arrivare a questo a questo lavoro che è stato fatto anche tutto internamente, anche tutta la grafica insomma curata dal collega Thomas che è questo insomma è un maestro. Grazie a voi, grazie a tutti. Bene, quello che dobbiamo dire noi l'abbiamo detto, non so se vuole chiudere l'assessore con un ulteriore intervento e poi siamo aperti ad eventuali domande se ci sono. Prego assessore. Non l'abbiamo chiuso il microfono, abbiate pazienza. No, dicevo sentiamo se c'è qualche domanda o richiesta di qualche chiarimento eventualmente più che un nuovo intervento mio, poi magari vi saluto alla fine, ma sentiamo se c'è qualche intervento prima. Non sembra, non sembra assessore, quindi anche i comuni collegati vedo che non interagiscono, quindi... No, non sembra. Io comunque al di là degli interventi o meno di alcune domande che possono esserci invito tutti a visionare questo lavoro, al di là di quanto è stato detto qui oggi per Massimi Sistemi, si è fatto capire e il senso dell'iniziativa e chi ha operato, che ringrazio di nuovo per portare avanti questa iniziativa, quindi la collaborazione anche con gli enti locali e quant'altro, quindi a livello di tecnici soprattutto ovviamente, questo è un modo di divulgare puntualmente con novizia di particolari anche proprio tutta la situazione che sui nostri territori, diciamo, sta vivendo il nostro rapporto, diciamo, con la qualità dell'ambiente nel quale noi viviamo. Quindi, come dire, dobbiamo essere, ci mette di fronte alla consapevolezza di avere, di come noi nelle nostre città dove viviamo, abbiamo quale rapporto, diciamo così, con la qualità ambientale, con la qualità dell'aria che respiriamo, dell'acqua che utilizziamo, ma anche del rumore che ascoltiamo o di quant'altro, diciamo, fa parte della qualità della nostra vita e anche della nostra salute alla fin fine, perché ovviamente tutto ne va anche poi della nostra salute complessivamente. Quindi è un lavoro fatto particolarmente bene, ma soprattutto che mette di fronte anche alle dirette responsabilità di ogni cittadino. L'approccio a, come dire, questa è la situazione, se la vuoi migliorare, se la vuoi mantenere, se la vuoi modificare, capisci anche qual è il tuo personale comportamento, perché poi ovviamente chi governa i territori, chi vigila sui territori, chi programma le attività dei territori, ne ha la massima responsabilità, quindi gli amministratori locali e gli amministratori anche in questo caso regionali e tutti gli organi poi tecnici come Arquam che devono vigilare sul tutto. Ma anche ogni cittadino ha la sua responsabilità. Ad esempio, nel nuovo piano regionale dei rifiuti, la prima voce sarà minor produzione di rifiuti, quindi non tanto ampliamento della discarica, piuttosto minor produzione di rifiuti. Chi la deve fare è la minor produzione di rifiuti? È chiaro che ci sono anche massimi sistemi che vanno ottimizzati da parte di chi opera e amministra i territori, ma ogni singolo cittadino deve imparare a produrre minori rifiuti e con un po' di attenzione riusciremo a farlo. Questo non solo nella qualità della differenziata, nel modo di operare, diciamo così, al recupero di quanto noi produciamo, ma anche proprio a produrne di meno. È possibile questo con un po' più di attenzione, fare un po' meno spreco complessivo di quanto noi utilizziamo nelle nostre vite sotto tanti punti di vista. Ecco, quindi ci mette un po' di fronte a quella che è la realtà, questo lavoro. Quindi invito proprio anche a visionarlo a modi libero, di libricino, a divulgarlo e a visionarlo zona per zona, comune per comune, e, diciamo così, cercare poi di attenerci alle buone pratiche, alle buone consuetudine, alle buone abitudini che ognuno di noi deve portare avanti. Quindi questo lavoro aiuta le amministrazioni, aiuta la regione, aiuta gli enti tecnici, ma secondo me aiuta e orienta anche i cittadini. Oltretutto è anche un lavoro fatto con estrema onestà, diciamo così, dove siamo nudi di fronte al cittadino, nel senso che non è che abbiamo nascosto qualcosa. Se c'è una zona o un parametro di un qualche comune che è da evidenziare, prima avete fatto bene ad evidenziare alcune situazioni positive, non abbiamo evidenziato alcune situazioni magari meno positive, ma se si legge, si scorre il libricino, si valutano le situazioni, lo si vede là dove c'è da migliorare. Questo vale quindi per il cittadino come per gli amministratori locali che operano sui territori. Un lavoro sinceramente fatto molto bene. Quando Marchetti me ne aveva parlato lo scorso anno, anche con una certa inconsapevolezza da parte mia, ero lì da pochissime settimane, quindi non mi rendevo neanche bene conto di quello che poteva essere le attività da svolgere, da portare avanti. Me ne aveva parlato che si stava valutando da tempo ormai queste situazioni, lo si voleva tradurre in un qualcosa di visibile, di concreto, di tangibile. Questo è stato fatto, secondo me è stato fatto molto bene, quindi ringrazio chi l'ha pensato, chi ha operato, chi ha portato avanti le attività, chi ha collaborato e chi oggi in questo momento lo ha presentato. Io sono molto soddisfatto di questa situazione e di questa iniziativa e vi ringrazio di nuovo, ringrazio, prima ho tralasciato altri relatori, chiedo scusa a Panelli, non riuscivo neanche a capire chi c'era dietro quel tavolo dalla mia postazione con esattezza, ma voglio ringraziare, l'ho già fatto, ampiamente le attività di ARPAM, senza soffermarmi sui singoli, se non i direttori che ho già citato prima e parlo al plurale perché c'è il direttore che ha intrapreso il percorso, c'è il direttore che lo ha concluso. L'importante è che abbiamo lavorato tutti quanti insieme con la consapevolezza di fare qualcosa di utile e credo che ci siamo riusciti e per questo di nuovo vi ringrazio e ringrazio chi è che ha ascoltato, ovviamente la stampa e chi è che è collegato anche su questa iniziativa di stamattina. Grazie di nuovo. Arrivederci, grazie. Saluti Assessore. Arrivederci a tutti, grazie. Arrivederci a tutti, grazie.